È stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria la decisione del Governo di modificare le norme in materia di superbonus di 110% e bonus edilizi, concedendo la possibilità di una seconda accessione dopo la prima verso soggetti collegati, direttamente o indirettamente all'intervento. La Confartigianato Imprese Sardegna saluta con favore le nuove norme e auspica che le regole definite ieri siano stabili in durature, una condizione che restituirebbe alle imprese la certezza di poter lavorare e pianificare i loro interventi. Anche perché nuove modifiche in 20 mesi hanno finito per creare problemi all'intero settore. La nuova strada individuata dal Governo rappresenta una scelta equilibrata anche per colpire le frodi che danneggiano tutti, a cominciare proprio dalle imprese del settore costruzioni, ha commentato Maria Amelia Lai, presidente dell'Associazione. Ora rimane aperto il problema dell'accessione del credito tra fornitori e distributori di componenti all'interno delle filiere. Ci auguriamo che possa essere considerato e risolto nell'ambito dell'esame parlamentare. Quest'ultima stretta sui crediti fiscali non ha fatto altro che fermare le imprese serie e sane che operano in uno dei settori che sta garantendo investimenti e lavoro e che contribuisce alla transizione energetica ed ecologica, sottolinea Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna. Gli effetti negativi delle continue modifiche si stanno già vedendo con la riduzione dei lavori conclusi e ammessi a detrazione. A livello nazionale, a gennaio, ammontano a un miliardo e mezzo di euro un valore dimezzato rispetto a dicembre 2021. Tutto ciò avrebbe messo a serio rischio le 127.000 assunzioni previste dalle imprese e delle costruzioni nel primo trimestre di quest'anno.